e al quarto minuto sembrava che il pronostico fosse rispettato con un tiro violentissimo di Bergamaschi che aveva ricevuto da Oriali su calcio di punizione. Malcesena richiama tutte le sue risorse di orgoglio e di vitalità e al tredicesimo con un'azione proposta da Filippi va al pareggio con Garlini. Due minuti dopo Schackner impegna Bordon che si salva come può ma sul polone piomba Piracini che segna e siamo al 2-1. Su un tiro di punizione tirato da Beccalossi, Bini colpisce di testa e pareggia. Bella partita e punteggio è commentato.